benvenuti a un nuovo episodio di in risposta scombo e oggi signori ci mettiamo sulla difensiva anzi wizard of the ghost mettiti tu sulla difensiva perché oggi parliamo del declino lento inesorabile e forse insomma abbastanza telefonato di magic the gathering arena tu dici telefonato no 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 nel senso allora aspetta sicuramente dal tuo punto di vista sei tu che mi hai insegnato a vedere determinati come si dice indicatori di declino e quindi allora dal tuo punto di vista che sei sicuramente è un declino telefonato del client poi in generale dal punto di vista invece collettivo se lo guardo dall'esterno no assolutamente cioè qui siamo di fronte a uno degli strumenti che poteva dare a magic una spinta fortissima in più verso il futuro e che a me ancora non mi funziona la lista amici neanche a me l'abbiamo controllato prima ora che stiamo registrando abbiamo fatto l'ultimo aggiornamento dicendo dai speriamo che l'abbiano sistemato no non c'è ancora la lista amici attiva dopo un paio di mesi ormai vediamo la puntata in blocchi cioè il il punto è di cosa parliamo di quando parliamo di declino di magic arena parliamo di numeri parliamo di no noi stiamo parlando dal punto di vista competitivo no no non solo non solo io voglio parlare anche del software la volevo fare in blocchi perché dal punto di vista competitivo magari ne parliamo adesso e sicuramente abbiamo delle molte cose da dire perché di certo io non mi voglio addentrare nel in una cosa che non so magic arena fa più soldi magic arena fa meno soldi magic arena potrebbe fare più soldi queste sono tutte cose che tu le sai no non sono neanche pubbliche tra l'altro sono tutti dati segretati e cioè per me io credo che se penso al casual che entra in questa piattaforma gigantesca piena di cose piena di feature in cui si possono fare tante cose diverse eccetera ne viene comunque attirato e secondo me i suoi soldini li spende volentieri qui lì ci sono cose belle da una parte cose belle dall'altra il punto è tutto sul come fabbri o sbaglio voglio fare una premessa ecco facciamo una premessa faccio io una premessa io a magic arena devo zio garbe quindi io amo magic arena ok perché poi mi etichettano come quello che si lamenta sempre di arena ma tanto tutti si lamentano tutti e ci saranno dei motivi se tutti si lamentano questo chiusa parentesi a me dispiace fare questa puntata e infatti a simo ho detto guarda non sono così sicuro di volerla fare però secondo me siamo arrivati a un punto in cui per anche se siamo piccoli dare un nostro feedback sulle prospettive future di questo software che ci ha permesso siamo piccoli che vuol dire ci abbiamo pure un padron ragazzi a proposito noi diciamo in padron siete tantissimi vi ringraziamo tantissimo c'è qualche nuovo padron da nominare nel caso te lo dico così non mi fai più sta domanda durante l'episodio però cioè siamo relativamente piccoli rispetto a un qualsiasi creator pro player internazionale il nostro parere non credo venga ascoltato però inizio a leggere articoli sul declino di arena testata italiana paunid ha pubblicato un articolo di acon molto interessante lo lasciamo in descrizione lì era più incentrato sul competitive oggi ne parliamo ma parliamo anche di problemi grossi lato software che vanno a incidere non solo sul player fidelizzato che a prescindere gioca perché magic è bello ma va a incidere anche sulla nuova utenza perché i problemi che ha software e di gestione lato pc si riflette poi anche sul mobile tanto bello l'ho elogiato tanto il mobile ma tutti i problemi che ci sono lì vengono cioè sul pc vengono trasposti anche lì quindi premessone per dire che a me piange il cuore a me sinceramente piange il cuore e a me arena ha venduto una prospettiva che nell'ultimo anno possiamo parlare di un anno e si è crollata è crollata perché l'ultima feature di arena intesa feature come cosa in più in un momento in cui aerson si sta rinnovando legends of runterra sta investendo un sacco lato e sport arena l'ultima feature è il draft fra umani da lì tutte le promesse fatte dagli sviluppatori non sono state mantenute cioè noi a maggio in teoria dovevamo avere la prima pioneer anthology dov'è? non c'è comunicatecelo comunque questa è la premessa perché poi adesso parliamo nel dettaglio no no ma è una premessa giustissima il punto è che tantissime cose che magic arena ha promesso sono rimaste tali promesse perché della modalità spettatore di cui tanto si parla ti ricordi negli state of the game non ci sono più neanche quelli ragazzi no non ci sono più state of the game si parlava e poi ad un certo punto è no perché la usano poche persone non ci serve non preferiamo sviluppare altro cioè all'interno del client quello che mi sembra che stia succedendo è il normale mantenimento cos'è il normale mantenimento per magic arena l'ingresso ogni tre mesi delle nuove espansioni cartacee che ci mancherebbe solo che anzi arrivano anche prima su magic arena e beh ragazzi funziona tutto quindi diciamo minimo sindacale normale mantenimento ok tra l'altro non del tutto perché non ci sono neanche più le animazioni delle carte mitiche le animazioni di un tempo pensa ai dinosauri i dinosauri di coria coma c'è una bellissima animazione coma ce l'ha ma un tempo tutte le mitiche avevano un'animazione con l'omino che usciva dalla carta adesso se prendi ma tutte le mitiche proprio praticamente tutte le mitiche tranne i planeswalker adesso invece è un'immagine ritagliata tipo gif che si muovicchia quindi il lato anche animazioni delle carte c'è molto meno impegno rispetto a un tempo rispetto alle adv che c'erano due anni fa anche questo io non l'ho notato perché sai che non sono un esteta e mi preoccupo solo di giocare a me mi interessa che a turno due devo tenermi open perché se no mi fanno un arset e il client me lo consente non me lo consente poi ripeto adesso ci arriviamo a parlare anche di questo perché è un punto cruciale in verità di tutta la puntata però a me sembra tornando a quello che stavo dicendo che stanno facendo una grossa fatica ripeto ragazzi sono tutte teorie non parliamo perché abbiamo parlato con gli sviluppatori Magic Arena non lo sappiamo non abbiamo quel livello di confidenza anche con le persone che lavorano al progetto quindi innanzitutto non li crocifiggete loro secondo voi non crocifiggete noi e però non vi lanciate in dietrologie tipo lo fanno perché sono cattivi perché alla fine secondo me è un prodotto che loro vorrebbero tranquillamente far esplodere però in un modo o nell'altro devono decidere come utilizzare le risorse allora stavo dicendo il normale mantenimento avviene ma oltre a quello vengono solo aggiunte adesso è appena uscito l'Istoric Antology 5 molto bella i pretori tutti e le schnorna di qua e di là e altre carte che vengono aggiunte bla 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 ma per il resto il l'investimento su Arena è praticamente nullo non c'è niente che succede sul client oltre a questo e soprattutto non c'è niente che migliora a me sembra sai cosa Fabri dimmi se un po' ti ci ritrovi un mega hyper shop di Magic cioè io entro posso comprare un sacco di carte digitali bellissime con cui flexare con gli amici giocare eccetera ma poi vengo lasciato in un angolo e non so bene cosa se ho un problema cazzi miei sì è un po' così il punto è tendenzialmente le false promesse che ci hanno venduto in generale cioè un nuovo giocatore che oggi entra su Arena è bello che è contento gioca gratuitamente Magic su questo siamo tutti d'accordo se uno come hobby ha quello di draftare Arena ti permette di giocare free to play se hai una buona win rate tutto questo ci sta però si ricollega anche al competitive questa roba della falsa promessa perché sembra che abbiano mollato la prospettiva e-sport hanno rivoluzionato tutta la parte però tornando tendenzialmente sul cartaceo non dico che sia sbagliato io amo principalmente Magic cartaceo quindi a me va anche bene non mi interessa a me è un GP cartaceo io li guardavo sempre super volentieri e continuerò a guardarli se questo è dove vogliamo arrivare purtroppo non lo sappiamo non lo sappiamo è un grande dubbio in verità che questa è una piattaforma che appunto ci è stata presentata e quindi qui parliamo della parte competitiva non casual della puntata come comunque soprattutto la pandemia ha accelerato questo processo come un sistema comunque dove il nuovo giocatore viene accompagnato al competitive di Magic e allora ragazzi è successo quello che è successo abbiamo avuto un qualifier dove il formato era standard poi il formato è stato historic non si è capito beh ci sono e questo noi lo diciamo perché abbiamo letto dei tweet ufficiali non ufficiali nessuno ha detto niente che è la cosa preoccupante di tutta la situazione non sappiamo di questo qualifier chi si è qualificato come perché gira un tweet tra l'altro dell'amico Corrado De Sio che ci fa vedere una mail in cui viene detto ai giocatori che hanno ottenuto 7 vittorie durante il qualifier 7 ma tra i due qualifier che ci sono stati perché fondamentalmente nel day 2 tu hai cominciato a giocare in un modo appunto historic quindi era bannata winota che in verità in standard esiste e hai smesso a un certo punto è finito il tempo loro hanno riattivato tutto e hanno rifatto partire il qualifier e hai continuato in un altro quindi c'era gente che stava 5-0 che poi magari ha fatto 0-3 e così via e pare che giri una mail in cui dice se hai fatto 7 win tra tutte e due le run sei qualificato al Pro Tour che è una cosa bella perché hanno riparato un po' all'errore ma fatecelo sapere non c'è niente e questa è una cosa io e Zio Garbi abbiamo la lista amici rotta da più di un mese sicuramente e ripeto questo strumento qui io l'ho anche detto in un video è uno strumento ottimo per far fiorire il competitive di Magic al di fuori anche soprattutto del client cioè c'è Magic Arena Magic Arena è gratis mi posso farmare le carte tutti possono giocare faccio il tour io e Fabrizio faremo l'irrisposta scombo tournament no non è vero è una cosa no ma questo è fake news vabbè un giorno faremo l'irrisposta scombo tournament 50 euro di iscrizione 5000 di monte premi dagli lo famo su Magic Arena eccetera e c'è la lista amici buggata e non si può non si riesce a giocare cioè a me sembra aspetta perché poi il discorso sul competitive chiaramente si conclude con questo mese signori noi non sappiamo questa puntata esce il giorno ancora 31 maggio 30 30 maggio scusate e noi non sappiamo la data del qualifier di giugno e quindi che cacchio fai 1200 non la sappiamo cioè abbiamo inteso da comunque una scritta che se fai top 1200 effettivamente a qualche qualifier ti qualifichi non sai quando se io sono in vacanza quando sarà cioè se io mi dovrò regolare cioè io spendo del tempo investo delle mie risorse pago dei soldi per comprare le wildcard dei pacchetti e non so tutte queste cose quindi ripeto l'impressione è che loro abbiano preso il prodotto e lo stiano trattando esattamente come tra virgolette i negozi cioè sì queste sono le carri questi sono i prodotti questo è quello che ci questo è quello che sappiamo fare perché noi sappiamo fare il gioco più bello del mondo e lo sappiamo fare bene ok e lo sappiamo anche mettere in digitale perché fondamentalmente dai questo possiamo dirlo bug di gioco allora bug della piattaforma tanti tanti ma bug tantissimi bug di carte che si incastrano una con l'altra tipo quando fa una carta si rompe pensa a cosa è successo qualche settimana fa dove hanno dovuto bannare le carte doppie perché c'era cazzo ho parlato e giustamente mi hai tirato fuori quello della devotion e no hai perfettamente ragione però comunque meno di mtgo dai stiamo sempre parlando comunque del gioco più bello l'ho detto e anche più complicato del mondo vediamo se sembra questo e ti chiedo una riflessione tua noi sappiamo fare questo sappiamo fare le carte sappiamo fare le regole c'è modern horizon 2 all'orizzonte che è stupendo io e fabrizio vediamo gli spoiler ci scriviamo su whatsapp e ci vengono i brividi ci abbracceremmo se fossimo nella stessa città è tutto stupendo però poi quello che c'è intorno non va cioè non lo riescono a trattare come andrebbe trattato perché dal punto di vista ripeto competitivo qui si sono fatti talmente tanti di quegli errori che non sto neanche più a contarli che probabil io non lo so questo e adesso lo faccio dire a te probabilmente qualcuno l'hanno fatto anche scappare via e i numeri di twitch lo dimostrano sì i numeri di twitch sappiamo sono una metrica di marketing e noi adesso vi dico quali sono quelli complessivi global non Italia perché magic italia ha una tradizione il gioco in Italia particolare e quindi non si riflettono nei creator italiani però nell'ultimo mese cioè maggio l'average viewers che è la metrica più importante su twitch cioè gli spettatori medi nel corso della giornata sono 3000 circa ed è un calo del 60% rispetto al mese prima ma 3000 sono pochissimissimi però sono molto pochi però è una metrica la sfiga di questo mese maledetto per wizards dove c'è stato il problema con i pro ci sono state una serie di problematiche con arena la sfiga vuole che tra l'altro questo mese è stato pubblicato la scrittura dell'algoritmo di arena quello dei complottisti è stato pubblicato che dimostra sì poi tu che sei un ingegnere immagino l'abbia apprezzato io sono un ingegnere sì sono un ingegnere sei sei te lo ricordo ogni tanto c'è scritto c'è scritto lo farò sicuramente quindi è pure sfigata wizards perché proprio questo mese viene raccontato come funziona il fatidico algoritmo che ti fa spendere di più in realtà non è legato alla spesa però è un algoritmo dove ti spiega perché zio garbe con un deck budget riesce a fare mythic caso strano è l'algoritmo vi lascio l'articolo in descrizione così traete voi le vostre conclusioni la metrica di twitch dimostra in realtà un po' che l'utenza casual dopo un po' si rompe anche quella più affezionata magic è il gioco più bello di tutti ma perché devo spendere 300 euro per farmi tutto historic quando posso spenderli su un prodotto eccezionale come modern horizons 2 perché mai perché io giocatore appassionato di magic che non voglio competere facciamo finta che non sono un content creator dovrei spendere quei soldi su un client che non riceve aggiornamenti non riceve upgrade che non risponde alle richieste dei giocatori e non esaudisce quello che aveva detto in precedenza perché dovrei spendere investire su arena cioè piuttosto spendo su mtgo se sono competitive sapendo anche come funziona l'algoritmo ora cioè tu affidi il pro tour a un algoritmo che può essere exploitato cioè può essere forzato in certi modi cacchio che matrangata ai sogni no? di arena che ti devo dire non riesco a risponderti diversamente dal hai ragione cosa penso penso che comunque ripeto nei segnali che più o meno la casa madre ci ha dato noi possiamo andare effettivamente a indicare una strada di declino lo proviamo a fare anche insomma senza forzature perché ripeto anche le cose che prima c'erano adesso non ci sono più e ci riferiamo alle state of the game che ci teneva un po' aggiornati e ci riferiamo alla roadmap di comunque gli sviluppi che non ci vogliono far sapere più non si sa neanche perché tra l'altro quello e come diceva Fabrizio l'ultimo sviluppo che abbiamo visto in questo è il draft che veramente doveva esserci al D1 però noi chiediamo la modalità dei spettatori che non c'è chiediamo comunque la risoluzione dei problemi della lista amici ma anche qualcosa in più qualcosa di diverso anche all'interno del gioco leggevo un tweet ma perché modern horizon 2 non arriva solo limited su arena e poi lo mettono su historic sarebbe una tonnellata di soldi no? non lo fanno perché a quel punto gli conviene qui abbiamo un modello di business che è chiaro Fabrizio qui si stampano moneta con lo stampa delle carte che tantissime persone vogliono io, te, tutti e quello funziona bene allora possiamo tornare qui probabilmente possiamo entrare nella parte della puntata al paradigma ma allora arena che serve? perché se ha tutti questi problemi non lo stanno comunque risolvendo è sembra che non ci sia manco la voglia di risolvere che cosa qual è il punto di arena? probabilmente arena è fatto per agganciare solo i nuovi giocatori probabilmente il nuovo giocatore si accorge di questa roba? probabilmente no no secondo me se ne accorge dopo un mese ma dopo un mese magari è già tornato in negozio ha comprato il deck commander inizia a draftare con gli amici sono proprio tanti feedback che io ricevo e che anche tu ricevi perché me lo dicevi di tanta gente dice ho visto i tuoi video ho cominciato a giocare l'arena ah non vedevo l'ora giocavo a questo gioco quando ero bambino adesso mi sono andato a ricomprare le carte quanti ti scrivono tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni questa roba è stra rilevante e cioè nel senso anche nel comportamento di alcuni content creator nostri amici che io vedo eccetera che sono passati dal fare sempre costruito al fare limited queste cose qua a me sembra ma tanti che poi leggo veramente super giganteschi su twitter che facevano arena come main project e che smettono perché non mi piace lo standard non mi vado ad aspettare fino a dnd perché si rivoluzioni non ho sì ok storic ma storic costa tantissimo il miglioramento dell'economia che non è venuto non verrà mai ne parliamo dopo del miglioramento cioè ne vorrei parlare nel dettaglio sì no in che senso ne parliamo non c'è stato no che loro avevano annunciato a ridosso dei tempi di Eldraine il rifacimento del sistema Volt ok era nella rotola si perché la Volt hanno detto la teniamo provvisoria perché verrà rifatta l'avevano detto anche nei video perché un tempo facevano anche i video degli state of the game che io commentavo era divertentissimo adesso non li fanno più già da parecchio tempo mi sa da Teros però la Volt è un placeholder cioè è lì per tappare il buco poi nel tempo invece è diventata la soluzione dell'economia di arena e questo è la breve storia dell'economia quindi finito parlare perché è finita qua abbiamo già parlato dell'economia di arena è fantastico quindi abbiamo finito qui bene e però è questo che c'è da dire su questo che Airston tanto criticato per l'economia adesso sta facendo una roba che secondo me sarebbe eccezionale per arena cioè vende deck tier a 20 euro 20 euro ti shoppi un deck tier con tutte le staple che puoi usare su 10.000 altri deck cioè tutti stanno vedendo che c'è un calo dei giochi digitali di carte e quindi stanno facendo qualcosa per lore sta mettendo nuove modalità cioè la modalità Slade Spire Simil Airston fa battleground che traina tutto però investe anche sul rifacimento dell'economia arena l'ha promesso un tempo non l'ha fatto ha promesso il pioneer ma mettere il pioneer con l'attuale economia di arena sarebbe un massacro quindi sono anche contento che non mettano il pioneer tra l'altro l'ha promesso e l'aveva promesso per maggio sì sì anche prima siamo al 30 capisci cioè che cosa sta succedendo poi streamer event è collegato perché lo streamer event pare questo me l'hanno detto non faccio nomi chi me l'ha detto che si è saltato perché c'era una persona a seguirla a seguire tutto lo streamer event questa persona ha avuto un lutto si è preso il giorno libero è un'azienda enorme come aspro aveva una persona a seguire l'evento una che se non c'era hanno cancellato l'evento e non solo l'hanno cancellato per quell'evento hanno tolto lo streamer event quindi anche tagliando i budget lato direi promozione magic arena perché poi questo significa cacchio ma raga ma stiamo sprofondando è questo che a me preoccupa relativamente perché comunque magic è una cosa e arena è un'altra ma sì ma perché magic non morirà mai pensa me lo diceva comunque il mio amico vicious streamer che comunque insomma quando ha visto che anche io ho iniziato questa carriera chiamiamola così da content creator eccetera e ha bravo ha scelto un gioco come magic magic non morirà mai cioè non è quel gioco mai è vero siamo tutti d'accordo su questo certo pure che sembra che non nascerà mai cioè se continua così e alla fine quando io streamo mtgo o porto mtgo sul canale la gente giustamente me lo scrive guarda che mtgo è inguardabile hanno ragione hanno ragione ma e molti mi hanno scritto anche quando porto cartaceo ma non si capisce magic arena è molto meglio certo hanno ragione rimane il fatto che magic arena ha tutti questi problemi e soprattutto ha solo due formati quando magic è bello perché si gioca in tantissimi formati e questo rende un po' le cose diverse no e adesso andiamo avanti tra virgolette con il parlare perché dici gli indizi e il declino di arena c'è pure il discorso investiamo stanno investendo molto su spell table eh sì stanno investendo notizia che a me fa un super piacere super super perché ribadisco io sono diecimila volte più contento a investire in cartaceo rispetto all'investire su arena quindi se io creator posso portare contenuti di qualità più alta grazie a una piattaforma come spell table sono contento cioè se tu mi dicessi guarda spell table passi il mouse e si vedono le carte così posso raccontare il gameplay ti dico che tra l'altro si può già fare è un pochino macchinoso ma si fa si fa io l'ho fatto funziona funziona se migliorano se lo migliorano ancora ma io ci guadagno sono felice cioè se tu domani mi dici è morto arena ma investiamo su un'altra roba di magic io zio garbe e io fabrizio giocatore di magic sono felice cioè ormai ho talmente perso le mie speranze nel corso di questo anno su arena che sono insofferente questo è il problema sono insofferente il discorso della speranza secondo me che fai tu e che abbiamo fatto durante la puntata più volte secondo me è la cosa su cui dobbiamo concentrarci Fabri perché il punto è la mancanza totale di informazioni se ci può essere il problema certo che ci può essere il problema però come lo risolvo questo problema informando la tua fanbase e allora quando c'è stato il problema il qualifier che hai fatto prima hai fatto un tweet hai detto no io poi l'ho seguita quella Simo perché sono andato live da Delmo che aveva appena giocato contro un mazzo historic e ho seguito tutto il discorso su twitter insieme a lui perché avevano tweetato continuate a giocare esatto l'hanno tweetato e poi hanno detto no fermatevi non giocate ma che è successo cioè è proprio gestita male perché probabilmente c'era una persona a seguire l'evento e quella persona magari era andato a farsi una pizza di là e non aveva letto e ha detto Dio che faccio ma com'è possibile che un'azienda grossa enorme che è nell'anno migliore in assoluto non hanno mai guadagnato così tanto non stiano investendo su Arena perché poi quello che ci han detto e quindi torniamo al fatto che non gli interessa non gli interessa ormai possiamo dirlo a Wizards non gli interessa più Arena e finito il sogno in sport ti ricordi You Will Be The Next Champion con quel trailer fighissimo con quell'evento in cui avevano chiamato Talent che una gamba ti costa 25 mila dollari ok perché anche questo c'è da dire che poi i talent li hanno comunque chiamati ma in maniera minore chiaramente da casa grazie alla pandemia ora voglio vedere al prossimo evento che cosa faranno che cosa non faranno adesso che ci avviciniamo ragazzi si spera ecco le dita incrociate lo dico alla fine di quest'incubo però rimane che tutti gli indizi a noi ci fanno optare verso il a loro di questa roba qui non gli interessa entro su Arena la prima cosa che vedo è Secret Lair Secret Lair Super Drop Last Chance vado e c'è un sito che mi vende carte cartacee Modern Horizon 2 il set più epato di sempre è una roba cartacea Spell Table e cartacee ci stanno investendo e l'abbiamo detto loro sanno che il gioco sta vivendo una nuova chiaramente epoca grazie solo ed esclusivamente non a loro e questo mi dispiace Wizard te lo devo dire ma grazie al Commander e mo al sua voce che ha riportato in auge questo gioco riportato in auge i prezzi perché è un formato casual che loro tra virgolette non hanno neanche toccato con Ballist eccetera quindi la gente si può divertire per giocarlo le sue car può flexare le foil può fare di tutto e soprattutto lo può fare in amicizia trasformando il gioco in un gioco di società se ci pensi perché Commander un po' è questo assolutamente e loro si sono ritrovati con qual è il nostro pubblico più grosso? quello qual è il nostro pubblico più splendente? quello e vabbè ma Corena che due anni fa l'hanno lanciato eSport boom 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 3D tutto che ce famo? pubblicità e Secret Layer poi attenzione io posso dire che lo dico sempre questo ai miei amici lato marketing su Arena un disastro lato scelte su Arena un disastro ma Wizards lato cartaceo capolavoro cioè Secret Layer a parte quello di The Walking Dead che ho criticato fino alla morte ma tu puoi pure criticare ma io me ne sono comprati due eh ma tutti gli altri tutti gli altri sono eccezionali perché tra l'altro non solo Commander ma il collezionismo Strixhaven tanto criticato dai player di Arena perché non ha inciso in Standard non ha ha inciso in realtà in Historic scusami non ha inciso in Standard però in cartaceo è stato un capolavoro perché ristampe eccezionali Art che hanno portato un sacco di soldi a Wizards perché sono spettacolari e collezionisti hanno speso e io ho iniziato a diventare un collezionista col sempre famoso Demonic Tutor è un capolavoro stanno facendo tutto giusto però evidentemente questo know-how cioè questa loro skill non hanno deciso hanno proprio deciso di non mettere la sua arena l'hanno deciso scusa mi scusi ti ho interrotto c'è da fare una conclusione probabilmente Fabri la conclusione è perché perché evidentemente hanno capito di non essere in grado di fare i sport dici questo e vogliono prendere l'onda di Pokémon sul collezionismo unita ovviamente al competitivo cartaceo è un'idea sì questa è la mia interpretazione non lo so la mia interpretazione invece forse è un po' diversa ed è ripeto una totale speculazione non è verità secondo me non fanno tanti soldi no non li fanno sono sicuro le balene ci sono io sono una balena di arena perché ogni volta esce un set spendo un sacco di soldi ma sono poche sono molto molto meno di quanto loro pensavano e nonostante tutti i loro sforzi di spingere appunto i storici farlo diventare un formato competitive di qua di là hanno visto che la gente alla fine di competere ne frega forse poco per quanto riguarda magic arena spendendo poco investono poco questa è la mia onesta conclusione la penso esattamente come te e lo dimostra vorrei tanto saperlo secondo me lo dimostra il fatto che set fighi come time spiral remastered come modern horizons 2 non arrivano sul client perché se arena rendesse fidati che le avrebbero messi anche lì perché aggiungere carte abbiamo capito che per loro non è un problema non è un problema non lo so se non è un problema è sicuramente un grandissimo problema perché comunque ripeto cioè da questo punto di vista noi gli applausi li dobbiamo fare il client funziona cioè le regole nuove quando entra Fortel funzionano sono belle che devo dire cioè caspita hanno fatto Strixhaven grazie a Strixhaven hanno portato un sacco di regole nuove sul client di arena in historic funziona funziona se ruota la lista amici è la quinta volta che lo dico ti prego aggiustatevi la lista però c'è è tutto funziona capito quindi rispetto a MTGO ogni volta io gioco a MTGO da 10 anni si rompe sempre qualcosa ogni volta esce un set rompevano una roba ok ogni volta qui non succede quindi sono convinto che effettivamente se ci fosse tanto pubblico che drafta su arena e quindi tanti soldi che loro gli entrano che so manco devono spendere per fare le carte lì no perché sono digitali quindi come dici tu secondo me i draft di Northern Horizon 2 i draft di Time Spare ma che fai non lo fa arrivare ma famola arrivare ma sbrigate pure capito e invece qua è tutto fermo quindi secondo me l'azienda si è reso conto di aver avuto comunque ha avuto la sua possibilità ci ha investito ora possiamo dire per errori suoi secondo me si possiamo dire invece per con cause generali non è andata come doveva andare e adesso ragazzi noi torniamo a fare il nostro lavoro cioè fare del gioco più bello del mondo delle carte stupende espansioni sempre nuove che vi aiubano eccetera e voi vi tenete sto client che è buttato lì tanto per l'opinione mia è questa eh sì però cioè prendi anche un prodotto tipo in risposta scombo quante puntate in quante puntate abbiamo parlato di Arena e in quante di Magic se fai una proporzione alla fine parliamo molto di più di Magic rispetto ad Arena eh sì certo perché Magic ti dà sempre uno spunto di riflessione invece inizialmente per come era stato concepito il podcast doveva essere un parallelismo fra me creator di Arena e te invece più competitive più legato al competitive è vero non ci avevo pensato e poi invece sei un po' invertita la cosa dopo un anno e mezzo questo fa ridere chiaro però il podcast si è evoluto come un podcast su Magic Magic dove parliamo sempre bene tendenzialmente di Magic a parte il gioco è meraviglioso ripeto quello che loro fanno io non so come io voglio entrare nella loro testa come fanno a disegnare le carte nuove tutte che so comunque bilanciate poi qua chiaramente ti darà il commento però uno ha rotto il formato adesso quanto tempo è che non fanno una carta che rompe il formato tanto hanno capito la lezione non lo dire perché sicuramente poi faranno carte ma ci sta è giusto è giusto mo l'ho detta la mia flammatemi non me ne frega niente ogni tanto una carta che rompe il formato ci sta l'importante è che non lo rompe proprio che la devi bannare dopo un mese per me Uro che ci ho giocato un anno andava bene va bene che gioco un anno con Uro e poi me la levi va bene perché è troppo fo perché le abbiamo parlato però detto questo cioè a inventare carte ripeto io vorrei entrare nella luta perché sono dei geni hanno un infatti per arena ci avranno una persona sola ma solo ed esclusivamente a parlare su twitter del team di sviluppo saranno in dieci giusto c'è Aaron Forsythe c'è Melissa Datora c'è Mark Roswell sono tantissimi e vuol dire che quel mestiere lì lo sanno fare magicamente sono tornati a fare quello sono tornati a fare quello probabilmente però io alcuni non l'hanno percepito ma io dico attenzione perché arena così o svoltano con D&D perché solitamente usciva il set e mettevano una feature nuova esce Icoria draft esce Eteros friendlist Zendikar niente mini pet cagate varie tra l'altro hanno ridotto anche il valore dei mastery pass tra l'altro non mettono historic brawl cioè diecimila robe che succedono ormai le conosciamo negli ultimi set nessuna feature nuova Strixhaven hanno messo la battaglia fra fra i i college come si chiamano fra le accademie ed era pagamento ed era pagamento noi vogliamo le scemenze se deve essere così allora dateci le scemenzine dateci i mini master io giocherei i mini master su arena dateci ste cose qui se no torniamo alla prima parte cioè deve essere una roba competitiva allora deve funzionare deve funzionare benissimo allora c'è tutto il resto zero e deve funzionare la roba competitiva secondo me ripeto probabilmente nella somma entrate e uscite arena è uscita e quindi noi concentriamoci su quello che sappiamo fare che sta andando molto bene l'abbiamo già detto 2020 miglior anno di magic con la pandemia ora guardiamo tutti lontano verso i primi eventi cartacei che ci saranno speriamo di vederci Fabri è uno di questi assolutamente salgo io se ce n'è uno a Roma scendi tu e per il resto in risposta continuata a scombare quello si c'è poco da fare il futuro ad oggi è sul cartaceo perché mi sembra proprio di dire di si dopo un anno così per arena mi pare che è difficile controbattere secondo me mentre un tempo potevate dirmi no la stai solo tirando perché hanno promesso cose adesso le promesse sono a zero messo mobile mobile ha i problemi del software del pc quindi tutto normale tutto in regola ah si la lista amici non c'è sul mobile per chi si stesse interessando della mia lista amici no beh quello è un disagio grosso quindi ma porca puttana va bene dai senti declino il declino come tema abbiamo già tutte e due la stessa canzone no eh si long way to ruin e allora esclusa quella no eh si eh si ormai me l'hai chiamata ok va bene ci penso va bene ragazzi grazie per aver ascoltato come sempre ci vediamo la prossima domenica con un nuovo episodio di risposta scombo ricordatevi che abbiamo un patreon siete in 23 vi ringraziamo veramente uno per uno con un grande abbraccio chi dovesse prendere il ruolo di scombista magnate ah è già stato preso Antonio Paolino Avella quindi grazie Antonio ti contatteremo presto per sapere quale è il tuo come si dice tema dell'episodio esatto il tema dell'episodio che vuoi proporre così che lo andremo a esplorare grazie a tutti e a domenica prossima con la friendlist magari no